Lui del nastro, meglio! Meglio! Passo meglio, passo meglio, passo meglio, passo meglio! Sì! Meglio, meglio! Meglio, meglio! Buona caccia, bel grande urlo, veramente, non c'è nessuno ancora fuori, perfetto. Potete tornare a posto? Già, voi vieni, prendi il sole. Ma caccia, torna a posto. E adesso andiamo giù, che Angela pensa a chiedere la preta, che vediamo la natura. E... che ne sono? Che ore fa? Abbiamo anche tempo di mangiare due passarelle, ci ha portato la mamma di Fabio. E poi... Ti sono chi le specialità? Troppo. Da Giacomo, andiamo giù. Senti, due regali. 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 Senti, due regali.